Un'area complessiva di circa 7.500 metri quadrati su quattro livelli, 18.000 metri cubi circa di volumi ed un'area circostante recintata di 5.000 metri quadri, capace di ospitare in sosta 80 automezzi. Sono i numeri della nuova caserma della Guardia di Finanza sul lungomare Giovanni XXIII a Pescara, che ospita con dotazioni tecnologiche all'avanguardia sia dal punto di vista delle telecomunicazioni che del risparmio energetico, il reparto operativo aeronavale, il nucleo di polizia tributaria e la stazione aeronavale delle Fiamme Gialle Pescaresi. La nuova opera, a pochi passi dal porto turistico marino di Pescara, è stato il frutto di un iter travagliato iniziato nel 1999, passato per contenziosi con le ditte, aule di giustizia e polemiche sull'impatto ambientale. Oggi è arrivato il giorno del taglio del nastro, che pone fine anche a un contratto di locazione passiva con i privati, con oneri annui pari a 270.000 euro, dando spazi adeguati ai militari che operano nella caserma, come ha ricordato il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Flavio Agnello, aggiungendo che si tratta di una struttura imponente ma allo stesso tempo ben armoniosa dal punto di vista architettonico. La nuova caserma della Guardia di Finanza è stata intitolata, alla memoria del vicebrigadiere del corpo, Ermando Parete, nativo di Abbateggio in provincia di Pescara, ma pescarese di adozione, che in vita si è adoperato per far conoscere gli orrori della tragedia dell'olocausto e scomparso lo scorso anno. Nel corso della cerimonia è stata ricordata anche la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Il soccorso alpino dei finanzieri ha avuto un ruolo fondamentale nei primi soccorsi, nel salvataggio dei superstiti e nel recupero delle 29 vittime. È stata una giornata particolare anche per il maresciallo capo Lorenzo Gagliardi, il primo ad arrivare dopo la valanga del 18 gennaio. Sicuramente oggi ricordiamo quei momenti sia felici che tristi di quella vicenda. Sicuramente sono belli quei ricordi dove siamo riusciti tutti noi soccorritori a salvare quelle 11 persone, però sono anche tristi per quelle 29 vittime che purtroppo non siamo riusciti a salvare. Il comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi, abruzzese di nascita, si è detto orgoglioso di aver tagliato il nastro della nuova caserma nella sua regione ed ha lasciato una dedica come buon auspicio per il lavoro per la collettività che la struttura si ha chiamata a svolgere. Ho scritto che il comandante generale della Guardia di Finanza è sempre molto felice di inaugurare le caserme, ma oggi è anche da abruzzese, se mi consentite, inaugurare una caserma della mia regione di appartenenza, della regione in cui io sono nato, questa soddisfazione è ancora maggiore. Ed auguro a tutto il personale di raggiungere dei risultati sempre più evidenti e sempre maggiori rispetto al passato.